Fine pena mai per Vincenzo, Pietro, Salvatore 47enne, Salvatore 45enne con Beriati, 30 anni di carcere per Giuseppe Scandale, Nicolino, Grandi Aracri e Giuseppe Grano, pene compresse tra i 7 e 6 anni di reclusione per Salvatore Vona, Salvatore Caria, Giovanni Castagnino, Mario Mauro e Giuseppe Pace, una sola soluzione, quella di Valerio Antonio. E' il verdetto del GUP del Tribunale di Catanzaro per i 12 imputati che hanno scelto il rito abbreviato, coinvolti nell'operazione Filottete, con cui i carabinieri del Comando Provinciale di Crotone, coordinati dalla Procura Antimafia di Catanzaro, sono riusciti a ricostruire la storia di 20 anni di faide tra le cosche di indrangheta crotonese e a far piena luce su 7 omicidi avvenuti negli anni a cavallo tra il 1989 e il 2007. Un blitz che il 30 ottobre del 2013 aveva portato all'arresto di 17 presunti esponenti del clan Conberiati di Petilia Policastro e Grandi Aracri di Cutro. Secondo l'impianto accusatorio della DDA di Catanzaro, gli omicidi erano dettati dalla necessità di eliminare fisicamente i nemici delle cosche alleate, quella dei Conberiati a capo della locale di Petilia Policastro e quella di Nicolino Grandi Aracri, boss della locale di Cutro. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS